Benvenuti sul nostro canale. Oggi ci immergeremo negli episodi intensi ed emozionanti dal 246 al 252 della sop'opera spagnola, La Promessa, che andranno in onda dal 19 agosto al 25 agosto 2024. Preparatevi per una settimana ricca di amore, tradimenti e segreti che vi terranno con il fiato sospeso. Non dimenticate di mettere mi piace, commentare e iscrivervi per ricevere ulteriori aggiornamenti sulle vostre telenovelas preferite. Nell'episodio 246 di La Promessa, che andrà in onda il 19 agosto 2024, assistiamo a una serie di eventi drammatici che scuotono la tenuta. Catalina si trova coinvolta in un pericoloso incidente quando sfugge per caso a un attacco di Jimena, la cui instabilità mentale si manifesta in modo sempre più evidente. Nonostante le iniziali speranze che la medicazione prescritta da Abel stesse facendo effetto su Jimena, presto diventa chiaro che la situazione è ben lungi dall'essere risolta. Un episodio particolarmente inquietante vede Pia trovare Jimena che balla da sola nella sua stanza, indossando solo la biancheria intima, un comportamento che allarma profondamente il personale della tenuta. La partenza di Manuel sembra peggiorare ulteriormente lo stato mentale di Jimena, portando il marchese a suggerire a Cruz di contattare urgentemente i genitori di Jimena per gestire la situazione sempre più critica. Nel frattempo, i domestici tirano un momentaneo sospiro di sollievo quando scoprono che la visita dell'imprenditore inglese, Mr. Cavendish, è stata posticipata. Tuttavia, Ieronimo, determinato a non perdere l'opportunità di business, insiste nel proseguire i preparativi per il nuovo affare delle marmellate, mettendo pressione su Mauro affinché tutto sia perfetto per l'arrivo dell'ospite. Catalina, preoccupata per lo stato di Jimena e per le possibili ripercussioni sulla reputazione della famiglia, decide di posticipare la visita di Mr. Cavendish, incaricando Pelaio di informare l'imprenditore. Questa decisione crea tensioni con Ieronimo, che vede nell'arrivo dell'inglese un'opportunità da non perdere a tutti i costi. In mezzo a queste turbulenze, assistiamo a sviluppi romantici, Pelaio riesce a riconquistare di Catalina, che cade nuovamente tra le sue braccia, creando un momento di dolcezza in mezzo al caos. Parallelamente, Lorenzo annuncia che Curro è stato accettato in un prestigioso collegio britannico e partirà a breve, una notizia che scuote gli equilibri familiari. Martina, venuta a conoscenza dell'imminente partenza di Curro, mostra un'apparente indifferenza che nasconde un profondo dolore. In privato, la giovane si dispera, sentendo di perdere per sempre il suo amore segreto. Il ritorno di Feliciano alla promessa aggiunge un altro strato di complessità alla trama. Il giovane torna con le mani ferite, un mistero che Teresa lo aiuta a nascondere ai marchesi, curando le sue ferite in segreto. Dopo aver riflettuto sulla sua situazione, Feliciano decide coraggiosamente di andare a confessare alla guardia civil, prendendo le distanze da Petra. Questo gesto di onestà mette Teresa in una posizione delicata, offrendosi di fare da mediatrice tra Feliciano e Petra, una situazione che lascia quest'ultima completamente spiazzata. La rivelazione shock di Petra a Feliciano di essere sua madre aggiunge un elemento drammatico alla storia, destabilizzando completamente il giovane e portandolo a scomparire proprio quando Teresa lo stava aspettando per accompagnarlo alla guardia civil. Questo segreto familiare promette percussioni significative sulle dinamiche dei personaggi nelle puntate successive. Intanto, Simona vive momenti di crescente ansia e impazienza nel desiderio di rivedere suo figlio Antonito. La situazione si complica quando Valentin continua a tergiversare, alimentando i sospetti sulla sua reale intenzione di aiutare. L'attesa snervante di Simona e i continui ritardi di Valentin creano una tensione palpabile, lasciando lo spettatore a chiedersi quali siano le vere intenzioni del giovane e se Simona riuscirà finalmente a riabbracciare suo figlio. Nell'episodio 247 che andrà in onda il 20 agosto 2024, la passione tra Curro e Martina raggiunge il suo apice, consapevoli che il tempo a loro disposizione è limitato a causa dell'imminente partenza di Curro per l'Inghilterra. I due giovani decidono di vivere intensamente ogni momento rimasto, creando ricordi che sperano possano sostenerli durante la separazione. Tuttavia, in un colpo di scena, Curro prende la coraggiosa decisione di non partire più per l'Inghilterra, rifiutandosi di separarsi sia da Martina che da Alonso, che ha recentemente scoperto essere il suo vero padre. Questa decisione scatena un violento scontro tra Cruz e Alonso, rivelando le profonde divisioni all'interno della famiglia riguardo al futuro di Curro. Lorenzo, cercando di mediare, promette a Cruz che troveranno un modo per allontanare il giovane, aggiungendo un elemento di suspense e potenziale tradimento alla trama. L'arrivo inaspettato di Mr. Cavendish, l'imprenditore inglese, coglie di sorpresa Pelaio e Catalina. Nonostante Jeronimo avesse tentato di rinviare la visita, il messaggio non è arrivato in tempo, mettendo alla prova la capacità di improvvisazione e l'ospitalità della tenuta. I domestici, dimostrando grande professionalità, riescono a gestire la situazione imprevista, organizzando rapidamente l'accoglienza per l'importante ospite. Durante la visita di Mr. Cavendish, Jimena continua a creare situazioni imbarazzanti, presentandosi in modo inappropriato e provocante. Nonostante le promesse di miglioramento, il suo comportamento erratico persiste, costringendo i marchesi a considerare seriamente misure drastiche per il suo futuro e la reputazione della famiglia. Nel frattempo, la rivelazione di Petra a Feliciano di essere sua madre complica ulteriormente le dinamiche familiari. Feliciano, profondamente ferito dall'abbandono subito in giovane età, fatica a perdonare Petra per averlo lasciato con un nonno tiranno. Teresa, cercando di mediare tra madre e figlio, si trova coinvolta in una situazione emotivamente carica, mentre la distanza tra Petra e Feliciano sembra aumentare nonostante gli sforzi di riconciliazione. Le tensioni tra Jeronimo e Pelaio iniziano a emergere, principalmente a causa della relazione tra Pelaio e Catalina. Jeronimo esprime preoccupazione per l'influenza che Catalina potrebbe avere sul suo socio, temendo che possa compromettere i loro affari. Questa situazione aggiunge un elemento di conflitto professionale e personale alla trama, promettendo sviluppi interessanti per il futuro. Alonso, nel frattempo, si rende conto che Curro non desidera veramente andare al collegio inglese, ma si trova stretto tra le pressioni di Lorenzo e Cruz. Nonostante ciò, Curro rimane determinato a rimanere vicino alla sua famiglia appena scoperta e al suo amore, Martina, creando ulteriori conflitti all'interno della famiglia e sfidando le aspettative dei suoi parenti. Jimena continua a mostrare segni di instabilità mentale nonostante la medicazione prescritta da Abel. La sua fantasia la porta a sognare un viaggio romantico in Italia, mentre si veste in modo provocante nella speranza di sedurre Manuel al suo ritorno. In un sottotrama che coinvolge i domestici, vediamo emergere nuove dinamiche e tensioni. I servitori raccolgono lettere da inviare all'Opea Madrid, un gesto che rivela i legami affettivi e le preoccupazioni che uniscono il personale di servizio. Salvador, in particolare, mostra una curiosità quasi ossessiva per il contenuto della lettera di Maria Fernandez, sperando di trovare indizi sui suoi sentimenti per l'Ope. Questo comportamento non solo alimenta i sospetti e la curiosità tra i domestici ma promette anche di portare alla luce sentimenti nascosti e possibili triangoli amorosi, aggiungendo un elemento di intrigo romantico alla trama principale. Nell'episodio 248 che andrà in onda il 21 agosto 2024, Curro prende finalmente in mano le redini del suo destino, ispirato dal cambiamento di atteggiamento di Martina. Nonostante le forti pressioni di Lorenzo e Cruz per mandarlo al college in Inghilterra, Curro sorprende tutti decidendo di rimanere. Questa decisione non solo suscita un forte disappunto in Cruz e Lorenzo ma segna anche un punto di svolta nel personaggio di Curro, che inizia ad affermare la propria indipendenza e a sfidare le aspettative familiari. La situazione peggiora ulteriormente quando Jimena aggredisce verbalmente Catalina e Margarita durante l'incontro con Mr. Cavendish, mettendo a rischio non solo la reputazione della famiglia ma anche potenziali accordi commerciali. La presenza inaspettata della Guardia Civil alla promessa crea un'ondata di panico tra i residenti, in particolare tra Ana, Maria, Teresa e Pia, che temono che i loro segreti possano essere scoperti. Pelaio, in particolare, è visibilmente agitato dalla presenza del sergente Funes, temendo che possa compromettere l'accordo segreto sulle armi con Mr. Cavendish. Questa situazione mette in luce le attività illecite che si celano dietro la facciata rispettabile della tenuta, aggiungendo un elemento di suspense e pericolo alla trama. Le tensioni familiari continuano a crescere quando Cruz rimprovera aspramente Petra e Feliciano per l'irruzione del sergento Funes nel palazzo. Petra cerca disperatamente di convincere Feliciano a fare fronte comune con lei, ma il giovane, ancora profondamente ferito dalla recente rivelazione sulla sua vera identità, si rifiuta di collaborare. Questo conflitto tra madre e figlio promette di avere ripercussioni significative sulle dinamiche della servitù e potenzialmente sull'intera casa. Nel frattempo, le relazioni romantiche continuano a evolversi in modo complesso. Salvador, determinato a riconquistare Maria Fernandez, si trova in difficoltà nel trovare il modo giusto per dichiararsi dopo tutto ciò che è accaduto tra loro. Maria, d'altra parte, si trova a dover gestire le attenzioni non desiderate di Valentin, cercando di fargli capire gentilmente ma fermamente che non è interessata a una relazione con lui. Questa situazione crea un triangolo amoroso che promette di portare ulteriori complicazioni e drammi nelle prossime puntate. La degustazione di marmellate organizzata da Catalina e Pelaio per Mr. Cavendish si rivela un grande successo, dimostrando le capacità imprenditoriali di Catalina e la sua determinazione nel portare avanti gli affari di famiglia. Tuttavia, il successo dell'evento è offuscato dalle continue preoccupazioni di Pelaio riguardo alla presenza del sergente Funessa La Promessa, temendo che possa in qualche modo interferire con i loro piani segreti. Nell'episodio 249 di La Promessa, che andrà in onda il 22 agosto 2024, Curro, determinato a rimanere vicino a Martina e ad Alonso, che ha recentemente scoperto essere suo padre biologico, sfida apertamente l'autorità di Cruz e le convenzioni sociali dell'epoca. La situazione si complica ulteriormente quando emerge che qualcuno con intenzioni maligne sta sfruttando la vulnerabilità di Jimena, aggiungendo un elemento di mistero e pericolo alla trama. Le dinamiche tra Petra e Feliciano continuano a essere tese. Il giovane mantiene le distanze dalla madre recentemente scoperta, rifiutandosi di rivelare a Teresa il motivo del suo distacco. Il desiderio di Feliciano di confessare tutto al sergente Funes crea ulteriore tensione, con Petra che cerca disperatamente di impedirgli di farlo per proteggere entrambe le loro vite. Nel frattempo, le relazioni romantiche nella tenuta si complicano ulteriormente.Maria Fernandez chiarisce a Valentin che desidera solo un'amicizia, ma il giovane sembra riluttante ad accettare il rifiuto. Questa situazione provoca gelosia in Salvador, complicando il triangolo amoroso. Parallelamente, Abel persiste nel suo corteggiamento di Ana, nonostante le sue richieste di mantenere le distanze, creando una situazione di tensione e imbarazzo tra i due. Margarita, sospettosa della relazione tra Jeronimo e Pelaio, continua le sue investigazioni, convinta che i due stiano nascondendo qualcosa di importante. Nel suo tentativo di scoprire la verità, però, si mette inconsapevolmente in pericolo, aggiungendo un elemento di suspense alla trama. Jeronimo, dimostrando la sua natura manipolatrice, sfrutta la situazione instabile di Jimena per i suoi scopi, istigandola contro Catalina e alimentando i suoi deliri. Nell'episodio 250 che andrà in onda il 23 agosto 2024, la situazione precipita quando Jimena mette in atto uno dei suoi piani più oscuri, rapisce Catalina. Questo atto estremo getta l'intero palazzo nel caos, con tutti alla ricerca disperata della giovane scomparsa. La tensione cresce quando si scopre che Jimena ha narcotizzato Catalina e la tiene prigioniera in una stanza del palazzo. Pelaio, nel frattempo, si trova a dover gestire le crescenti preoccupazioni di Mr. Cavendish riguardo alla stabilità del palazzo come luogo adatto per i loro affari segreti. Nonostante le difficoltà, Pelaio riesce a convincere l'imprenditore inglese a proseguire con l'accordo sul traffico di armi, dimostrando le sue abilità diplomatiche e la sua determinazione nel portare avanti i loro piani. Ana, sempre attenta agli sviluppi nella tenuta, assiste a una scena sorprendente. Alonso tratta Curro con un affetto paterno, alimentando i suoi sospetti sulla vera natura del loro rapporto. Questa crescente vicinanza non sfugge all'occhio vigile di Cruz, che teme che suo marito possa scoprire la verità sulla paternità di Curro. In preda al panico, Cruz preme su Lorenzo affinché trovi un modo per allontanare definitivamente il giovane dalla tenuta. In un'altra svolta della trama, il sergente Funes decide di chiudere il caso della misteriosa morte del padre di Petra e Feliciano. Questa notizia porta un momentaneo sollievo ai due, ma non basta riavvicinare madre e figlio. La distanza emotiva tra Petra e Feliciano rimane, con Petra che continua a cercare disperatamente un modo per riconciliarsi con il figlio che ha appena ritrovato. Nell'episodio 251 che andrà in onda il 24 agosto 2024, la trama raggiunge un punto di svolta drammatico con il ritorno di Manuel. Appena arrivato, si confida con Anna, rivelando di aver preso importanti decisioni riguardo al suo futuro con Jimena. Tuttavia, i marchesi lo accolgono con freddezza, rimproverandogli di aver lasciato sola Jimena nel suo momento di bisogno. Manuel, sorpreso dalla situazione, ribatte che la condizione di Jimena non è una novità, ma piuttosto una realtà con cui ha convissuto per mesi. La situazione precipita quando Jimena, in preda a un delirio paranoico, decide di appiccare il fuoco alla stanza dove tiene prigioniera Catalina. Questo atto mette in serio pericolo la vita di Catalina e getta l'intero palazzo nel panico. La scomparsa di Catalina diventa evidente a tutti, e Mr. Cavendish inizia a dubitare seriamente della sicurezza e della stabilità del palazzo come luogo per i suoi affari. Parallelamente, le tensioni familiari continuano a crescere. Anna osserva con crescente e sospetto la vicinanza tra Curro e il marchese Alonso, mentre Cruz, temendo che la verità sulla paternità di Curro possa venire alla luce, intensifica le sue pressioni su Lorenzo per allontanare il giovane. Lorenzo, però, si trova combattuto tra le richieste di Cruz e il suo crescente affetto per Curro. Le relazioni romantiche nella tenuta continuano a complicarsi. Salvador è sempre più nervoso a causa delle avance di Valentin verso Maria Fernandez, mentre quest'ultima e Anna cercano di gestire le attenzioni indesiderate rispettivamente di Valentin e Abel. In un momento di passione, Manuel sorprende Anna con una visita notturna nelle stanze dei servi, dove i due si abbandonano a un bacio appassionato, riaccendendo la loro storia d'amore proibita. L'episodio 252 che andrà in onda il 25 agosto 2024 si apre con una scena drammatica, l'incendio appiccato da Jimena di Vampa nel palazzo, mettendo in pericolo la vita di tutti i presenti. In mezzo al caos, Catalina viene finalmente salvata, ma si trova in condizioni critiche a causa del fumo inalato. In un momento di lucidità, riesce a rivelare che è stata Jimena a provocare l'incendio, gettando tutti nello sconforto e nella confusione. Manuel, appena tornato, si trova ad affrontare le conseguenze delle azioni di Jimena. Combattuto tra il senso di colpa per aver lasciato la moglie e la consapevolezza della gravità della situazione, cerca conforto in Anna, che lo esorta a mantenere la calma e a non agire impulsivamente. La situazione si complica ulteriormente quando si scopre che anche Romulo ha subito danni dall'incendio, aggravando la sua già precaria condizione di salute. Il dottor Abel, valutando le condizioni di Catalina, stabilisce che ha bisogno urgente di ossigeno, che deve essere procurato da un paese lontano. In un gesto di estrema crudeltà, Cruz corrompe il conducente incaricato di recuperare l'ossigeno, chiedendogli di ritardare il più possibile il suo ritorno. Questo atto dimostra fino a che punto Cruz sia disposta a spingersi per proteggere i suoi interessi e quelli della famiglia. I marchesi, rendendosi conto della gravità della situazione, decidono di contattare immediatamente i genitori di Jimena, i duchi de los Infantes. Questa decisione segna un punto di non ritorno nella gestione della crisi familiare, riconoscendo finalmente la necessità di un intervento esterno per gestire l'instabilità mentale di Jimena. Nel frattempo, le dinamiche tra i domestici continuano a evolversi. Valentin, ancora determinato a conquistare Maria Fernandez, cerca consigli da Simona e Candela. Le due cuoche, saggiamente, gli consigliano di abbandonare il corteggiamento, riconoscendo la futilità dei suoi sforzi. Salvador, d'altra parte, trova in Romulo un confidente per i suoi sentimenti contrastanti verso Maria, cercando guida e conforto nell'esperienza del maggiordomo. Lorenzo, cercando una soluzione per il futuro di Curro che possa soddisfare sia le aspettative di Cruz che il desiderio del giovane di indipendenza, suggerisce a Curro di entrare nell'esercito. Inizialmente riluttante, Curro inizia a considerare seriamente questa opzione come una via d'uscita dalle pressioni familiari e un modo per costruirsi un futuro autonomo. La situazione raggiunge un punto critico quando Mr. Cavendish, profondamente scosso dagli eventi recenti, minaccia di interrompere l'accordo con Pelayo per il traffico di armi. Questo mette a rischio non solo gli affari segreti di Pelayo, ma potenzialmente l'intera stabilità economica della tenuta. Con abilità diplomatica e persuasione, Pelayo riesce a convincere Mr. Cavendish a dare un'altra possibilità al loro accordo, dimostrando ancora una volta la sua astuzia negli affari. Grazie per aver seguito con noi i riassunti degli episodi dal 246 al 252 di La Promessa. Non perdetevi i prossimi sviluppi e, come sempre, ricordate di mettere mi piace, commentare e iscrivervi al canale per non perdervi nessuna novità. Alla prossima!